Ahahahahah! Ci sei! E' un Collins percorso! Vieni, la terza cosa? Tu è unulegato del mio nome. Se tu sai ma non mi sa bene? Perché non fai nonna? Ma non mi sa bene! La terza, no! Schifo! E' quindi tu sei lo dita che cosa? Mi mette al�o alla nonna, solo tu no, una settimana ci vado io gli altri giorni ci vado io e quindi io te mi ricamai solo tu andiamo, guarda qua, mamma che ha comprato questa bella mandellina, bella nuova, è nuovata come bellina, ma già schifata lo primo numero